Ciao a tutti, io sono Lucrezia di Lucreazioni. Volevo farvi vedere prima di iniziare alcune delle bambole che ho realizzato, come questa che è Geronimo, come questa che è particolare, i dentini, le sue ciglia, le bambolette, le accessorie e poi queste come potete vedere è una panoramica di quello che vi faccio nella nostra postazione di lavoro. Innanzitutto dovete sapere quale materiale vi servirà per incominciare a lavorare. Ecco l'elenco, vi serviranno un cartoncino, un compasso, delle ciglia finte, potete trovare in un qualsiasi negozio, anche di quelli che ci sono oggi dei cinesi. Dei colori acrilici, sicuramente bianco e nero che ci serviranno per gli occhi, il rosso per la bocca e per quanto riguarda l'irida degli occhi dovete scegliere voi se preferirete avere l'azzurro, il verde o il marrone. Ci serve del filo da pesca resistente, una marca vale l'altra, non ha importanza ma vi spiegherò che ci servirà ed è molto importante utilizzare questo filo, un altro si romperebbe. Del filo rosa che ci servirà per chiudere ogni imbottitura, degli aghi di svariate misure perché ogni ago ha una funzione diversa. Infine ci servirà una forbice possibilmente buona che taglia bene i tessuti. Dei pennelli ci serviranno sia quelli piatti che quelli specifici per le pitture delicate appuntiti. Questi sono molto importanti perché è da questo che deriverà il risultato dagli occhi della vostra bambola. Dei trucchi che vanno nelle tonalità del rosa, viola e poi vi spiegherò il perché. Un passettino alla volta. Ma una cosa importante è della lana per realizzare i capelli, un tessuto pipe o comunque elastico per realizzare i berretti, i gabbitini, le braccine, vedete che è facile da tirare. Poi ci servirà anche dell'ovatta semplicissima, quella che si trova all'interno dei cuscini oppure la potete trovare al chilo in un negozio qualsiasi di scampoli. Ci servirà anche della mallina, un altro tessuto elastico e lucido che ci servirà per realizzare il viso, le mani, i piedi e il naso. Ecco, amiche mie, questo è il materiale che ci servirà. Adesso passiamo a realizzare la bambola passo per passo. Eccoci, ora che abbiamo avuto la lista del materiale che ci serve possiamo iniziare e realizzare la nostra bambola. Prendiamo il cartencino con il quale realizzeremo la base per tagliare tutte le teste delle nostre bambole. Facciamo con il compasso un raggio di 8 cm e mezzo. Più o meno io realizzo le mie bambole intorno a una testa di 17 cm di raggio, anzi di diametro. In questo caso utilizzeremo solo il raggio. Eccolo qua, 8 cm e mezzo. apposiamo bene il compasso. E questa sarà la misura che noi utilizzeremo per fare ogni volta la nostra testa. Con lo stesso sistema taglieremo un cerchietto più piccolo del raggio di 2 cm, che sarà il naso della nostra bambola. Io per questione di comunità, perché mi trovo meglio così, le ho già piegate a metà e le ho già tagliate, in modo da averci già pronte ad ogni necessità. Questo sarà il cerchietto più piccolo che noi taglieremo, come io ho già fatto, e terremo sempre pronti per l'inizio di una nuova bambola. Cominciamo con le nostre bambole. Prendiamo della maglina, piegiamo una parte del bordo della maglina a metà, perlomeno io utilizzo questo sistema, se poi vi trovate meglio a tagliare il cerchio, è una questione di punti di vista. Io preferisco così, piego a metà il tessuto, appoggio il cerchio, posso scegliere se disegnare con un pennarello e poi tagliare, oppure tagliare direttamente con la forbice. Io per questione di comodità, ho già tagliato il viso, o meglio la testa, e il nasino, per iniziare a lavorare, altrimenti ci avrei messo troppo tempo. Una volta tagliato lo mettiamo da parte le nostre basi e cominciamo a lavorare. Ok, ora da bravesarte prendiamo del filo rosa, lo infiliamo in un ago comune, nessuna misura particolare, e incominciamo a cucire. Allora vedrete che ci sono due lati della maglina, c'è quello lucido dove si vedono le righette, e quello dove non si vede assolutamente nulla sul disegno. Noi utilizzeremo come esterno la parte con le righette, perciò incomincieremo a cucire il più vicino possibile al bordo, in questo modo, e dovremo cucire tutto senza tralasciare nessun punto, in modo da formare una palla vuota. Ecco, ora abbiamo cucito nel bordo, tutto quanto la nostra testa. non ci resta che riempirla. Prendiamo l'ovata, che è morbidissima, anzi più è morbida e meglio verrà la nostra bambola, e inseriamo all'interno della testa fino a riempirla per bene. Dovrà diventare una specie di pallina. In questo caso lo facciamo insieme, tanto per renderci conto, che va imbottita abbondantemente, in modo che poi, quando daremo la forma al viso, riusciremo a dargliela al modo corretto. Altrimenti verrebbe schiacciata, farebbe pieghe. Vi consiglio, visto che dovete appistare dell'ovata, di prendere almeno quella da mezzo chilo, che ce n'è in abbondanza per fare una decina di bambole. Tanto non si sa mai, un compleanno, un'occasione speciale, sono cose che vanno sempre bene. Io vi dirò la verità, mi sono salvata in molte situazioni. Non avevo un pensiero da fare, ne ho creato uno. Perché non fare così anche voi? Un regalo speciale, per una persona speciale. Vedete? Una volta imbottito, la testina risulterà così. E noi andremo piano piano a darle forma. Ok, ora spostiamo gli sfilli che non ci servono più. Ancora con il filo da pesca, noi entreremo all'interno della nostra testa e usciremo nel punto esterno della bocca. Mi direte perché? Perché quando si parla di bocca, si parla anche di labbra. E se non facciamo le labbra, non saranno visibili e non potremo dipingerli dopo. Allora, una volta uscite dal bordo della bocca, noi entreremo nella parte centrale. La vedete? Entrano la bocca. Usciremo da qua. Vedete? Una cucitura secca. E già l'abbruccio comincia a formarsi. Usciremo a fianco al punto che abbiamo appena fatto. Praticamente le espressioni sono tutte un intreccio di filo da pesca. Senza filo da pesca la bambola non avrebbe espressione. Non è complicato. Però, se non c'è, non dà lo stesso effetto. Eccomi qua. Ecco la nostra boccuccia. È visibile? Così dà un effetto. Poi vedrete che appena vi insegnerò a dipingerla, sarà tutta un'altra cosa. È ben visibile ora? Aspettiamo qualche minuto per passare alla dipintura. Eccomi. Ora andiamo a realizzare gli occhi della nostra bambola. Io utilizzo di solito la pittura così, perché mi piace il colore intenso. Poi, se siete più bravi di me, benvenga. Si fa il contorno dell'occhio, che non deve essere preciso preciso. Non ha importanza. Tanto poi andremo a rifinire, a rifinirlo con il colore nero e il pennello puntito. E utilizzeremo anche le nostre cilie finte per dare un effetto più vivo nelle nostre bambole. Incominciamo con il bordo bianco. Vedrete che inizialmente sembrerà quasi uno stracciatolo, ma nel giro di poco tempo lo trasformeremo in qualcosa di veramente delizioso. Io ve lo faccio vedere, ve lo mostro. Poi può anche darsi che scoppiate di essere più bravi di me e che il risultato sia eccezionale. Io li faccio perché in qualche modo all'interno di queste bambole ci metto un po' di me. E credo che lo farete anche voi. Questi sono gli occhietti, che ora diranno poco. Ma presto vi renderete conto che le cose cambieranno. Utilizzeremo i trucchi che vi ho fatto vedere all'inizio. Quelli con le sfumature di rosa e viola. Perché? Vi spiego subito per quale ragione. Ho provato ad utilizzare i pennelli e la pittura, ma i colori comunque venivano troppo intensi. Allora ho preferito utilizzare direttamente dei trucchi reali. Comunque sono trucchi economici. E soprattutto una volta attaccati al tessuto non vengono più via. E questo è il risultato più bello perché quello che realizziamo rimane e dura nel tempo. E saranno sempre più originali e sempre più particolari. Avete visto le nostre guanciotte che già cominciano a prendere forma? E poi un po' anche sul rasino. Altrimenti non ci sarà l'effetto tridimensionale. Io utilizzo di solito, dipende se voglio farlo femmina o maschio, magari anche un po' di trucco sopra al bordo bianco. Perché poi ci vorranno le ciglia. Ci vorranno tutti i particolari. Perciò noi abbiamo fatto ora il trucco di base. E da qui andremo a terminare tutto con la nostra pittura. Vedete che piano piano si sta formando? È visibile? bene. Ora cambiamo il colore. Avevamo detto che dipendeva da voi quale colore fare all'interno degli occhi. Io ho deciso questa volta di utilizzare del bel verde. Perché mi piacciono gli occhi verdi. Ok. Realizzeremo l'iride dell'occhio che va tassativamente rotondo. Non c'è bisogno di avere fretta. Tanto nessuno vi sta seguendo. Nessuno vi dà fretta in modo da non rovinare nulla di quello che state facendo. Ricordate che in qualsiasi lavoro l'importante è la passione che ci mettete. Che più ci metterete passione e più bello sarà il risultato. Io ho iniziato così. Proprio per gioco. Per passione di mia figlia. Ho insegnato a lei e man mano che insegnavo a lei piaceva sempre di più a me. Io ho iniziato a realizzare queste bamboli. che non esistono da molto. Sono nate nel 2013. Perciò soltanto tre anni fa. Prima non ne avevo mai fatta neanche una. Perciò oggi eccomi qua ad insegnare a voi come si possono realizzare. Ecco qua. Vari colori di verde. Diamo il tempo che la pittura si asciughi un po' per poi andare avanti. Questi sono i primi colori che verranno dati. Poi faremo la popilla. La popilla è tassativamente nera. Questo è poco ma sicuro e vale per tutti. Ma vedete che il nero lo utilizzeremo molto spesso. Non solo per la popilla. Attente. Vedete che già comincia a cambiare aspetto. Comincia già a prendere una linea del vivo. Poi vedete che aggiungendo i particolari darà l'impressione che vi stia guardando. E poi dipende molto anche dal tipo di sguardo che gli date. Io tendenzialmente preferisco lo sguardo dolce. Forse perché mi somiglia un po' di carattere. Forse perché non lo so mi piacciono dolci e coccolosi. Come i pinguini di Madagascar. Beh insomma avete capito che la cosa è molto semplice. Poi basta seguire l'istinto e le cose vengono da sole. In effetti vi sto insegnando le basi per diventare artisti e creatori delle vostre idee. Adesso aspettiamo un po' che si asciughi la pittura.